Scusa ancora esiste la sede di Uniego a Roma? Non si sa dove sta, perché qua non c'è più. C'è una bella targhetta in cui dice Uniego secondo piano, invece da noi dove c'è scritto bar piano terra, il bar c'è, si ricorda? Si ricorda che dove c'è scritto biblioteca primo piano? La biblioteca c'è e la palestra c'è.